Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Così impossibile che venga fatto anche da utenti perché si parla di testi, ma i testi alla fine sono quelli. Che cos'è? È un simulatore di manager di auto a ruote scoperte. Possiamo parlare di Formula 1, però questo gioco non ha le licenze ufficiali, non ha i nomi dei piloti, quindi parliamo di auto. Sì, l'ispirazione è quella della Formula 1. Ambientato negli anni 90, quindi possiamo andare a iniziare, fantastico. Indie Gameplay, io mi chiamo così, possiamo scegliere la nostra esperienza. Premetto, questo non è un tutorial, è solo un AI. Se cercate qualcosa che non sia Formula 1 Manager 2023, ma volete qualcosa di alternativo più indie, beh, dietro questo c'è Microprose, i grandi Grand Prix Manager 1 e 2, fantastici giochi. Potete scegliere il vostro passato, che poi determina il vostro tratto. Potete scegliere le livree prima della nuova stagione, generare piloti casuali, oppure permettere che le regole cambino dalla prima stagione. Noi facciamo sì, accettiamo e andiamo avanti. Questa è il supporto alle mod, che sarà molto importante soprattutto per avere dei nomi ufficiali. Possiamo andare a vedere che qui possiamo scegliere, ma non so come si fa ad aggiungerle, perché io l'ho provato ma in realtà non me lo fa modificare, almeno mi pare. Praticamente Open Wheel Championship 1, la Formula 2, la Formula 3, i kart e le altre cose che vengono simulate, perché da lì poi potremo andare a pescare i nuovi piloti. Abbiamo la Bellucci Racing, che è chiaramente la Ferrari, la Buffalo, che è la Red Bull, la McFly, potrebbe essere la Mercedes, la Green Energy, la Aston Martin e così via. Forza Orange è la McLaren, la Pinardi e la Villa, che è la Williams, la Black Sea, la Omega, insomma noi facciamo questa. Abbiamo un bilancio e abbiamo l'inizio del gioco. Ora, come ho detto, non è un tutorial, quindi andremo abbastanza velocemente, ma giusto per... Posso cambiare la libreria? Beh, direi che non è il caso, insomma, si può andare a cambiare, però è molto 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 figo come cosa, ma la lascerei così, insomma. Così non mi dispiace. Va bene. Allora, praticamente, fatto questo, vi faccio vedere i menu, vi faccio vedere quello che il gioco offre. Non vi spiegherò nulla, perché ovviamente devo approfondirlo anch'io. In sintesi abbiamo lo chassis del 1996, quello del 1997, lo sviluppo per l'anno successivo, il CFD e sono le varie parti. Poi abbiamo la production, quindi la possibilità di andare a riparare i pezzi divisi tra chassi, l'ala davanti, l'ala dietro, il sottoscocca, insomma il fondo piatto, si chiamava così, i side pods laterali e il cooling, il raffreddamento, freni, scatola del cambio, sospensione, l'idraulica e il motore. Abbiamo i due piloti, Don Collins e Pedro Paolo, chiaramente, chi altro se no, e abbiamo il garage con praticamente lo stato delle due auto. L'engine, abbiamo la possibilità appunto di vedere la potenza del motore con tutte le sue statistiche. Il pannello della ricerca ci consente di andare a potenziare spendendo dei punti di produzione, perché vedete che qua in alto abbiamo la reputazione, la confidence della nostra leadership. Questi abbiamo leadership point, che si spendono per decisioni strategiche, come migliorare gli edifici, licenziare i piloti, eccetera. Abbiamo i punti design, che può essere spesi per i punti di sviluppo, appunto per sviluppare nel tunnel del vento. Punti di produzione, per aggiornare o riparare. Punti di negoziazione, punti di ricerca e poi i punti ottenuti sul campo, punti sulle gomme e punti engine. Perché? Perché adesso andremo a testare l'auto provandola nei test privati. Perché test privati? Perché siamo negli anni 90 e c'erano ancora i test privati. Abbiamo il test track, dove vedete possiamo settare il numero di giri, mandarlo a fare un giro e fargli dare un feedback a loro due oppure al nostro terzo pilota. Quindi possiamo mandarlo, accettarlo, spendendo 4.000 e otteniamo, vedete, dei punti di questi qui, punti track work points, che sono pochissimi, 45 millesimi di punto. Quindi niente di che. Però abbiamo speso, abbiamo fatto questo test privato. Le facilities sono invece le nostre strutture. Possiamo chiuderla e licenziare tutto lo staff e possiamo vedere quali di questi abbiamo a livello base, regolare, esperto e top del nostro personale, che poi viene promosso, assunto o licenziato, dei vari settori. Quindi i contratti. I contratti vengono gestiti anche in virtù dell'anno prossimo, quindi non avremo un pilota perché Kapanen è in scadenza a fine del 96. Abbiamo, lui ci costa pochissimo, quasi un decimo nel nostro primo pilota e possiamo andare a cercarne un altro. E vedete che qua ci sono tutte le categorie che abbiamo detto prima, così possiamo andare ad assumere anche staff, ingegneri e aiutanti, credo sia. Comunque possiamo assumere anche i meccanici, anche gli ingegneri, tutti e i brand qua sotto, dei motori, delle gomme, dei freni, del cambio, dell'idraulica, delle sospensioni e tutti gli sponsor che noi possiamo poi montare sull'auto che compaiono regolarmente. Quindi possiamo andare a vedere dove possiamo, spendendo questi punti qui, che al momento ne abbiamo solo tre, quando ne abbiamo 30 potremmo spenderli in tre settimane per cercare un nuovo sponsor per l'auto. È una gestione un po' particolare. Niente, questo è l'assunto delle finanze, la banca dove possiamo prendere i prestiti o restituirli e il calendario del Gran Premio, dei Gran Premi. Abbiamo qua in alto la classifica, lo storico delle varie scuderie e la ricerca. Quindi poter cercare qua in alto, proprio come succede anche in Football Manager. Comunque andando avanti, vedete che poi passano le settimane rapidamente, non passano giorno per giorno ma settimane, e arriveremo al punto in cui dovremmo andare a, scusate qua ci sono le mail, ovviamente come potrebbe mancare, hanno messo un premio di 24 milioni per il vincitore, ci sono posti libri per gli sponsor, test per stagionali e così via. Andiamo avanti. Perché quello che voglio farvi vedere in questo video è anche la grafica e andremo a parlarne un pochino. Andiamo alla gara, che non è la gara ma sono i test. Qua praticamente vedete le due auto con le annotazioni di questi test in Germania. Andiamo al setup. Possiamo dirgli di mettere il motore in Fuel Economy, no, lo mandiamo in potenza. Il setup non l'abbiamo ancora finito ma in realtà non c'è granché perché i pezzi che abbiamo sono quelli. E in particolare lui ci dà quello che sono i rendimenti con la pioggia, nel downforce, nella riduzione del drag, nelle curve veloci, nel curve lente e l'efficienza dietro le altre auto. E hanno dei resoconti diversi. Noi facciamo la pratica, abbiamo 36 giri per poter testare. Quindi noi a questo punto possiamo andare a mettere una simulazione di gara, lo mettiamo 16 giri per entrambi. Dopodiché possiamo, vedete, andare a mettere 20 giri di Engine Research. E lui si farà 20 giri di Tire Research. Lo facciamo. Completiamo il primo e il secondo posto, perché siamo alla squadra più forte in quell'anno, a quanto pare. E abbiamo guadagnato punti. Quindi Tire Work ne abbiamo presi due e così via. E praticamente noi, spendendo questi punti di leadership, possiamo fare un discorso prima della gara, possiamo installare delle parti sperimentali sull'auto, possiamo condurre dei test segreti. Tra l'altro, cosa che io non capisco, non so, io possiedo il 100% della mia compagnia, ma posso cederne l'1%. Andando così via, ad ottenere 2 miliardi, no, 200 milioni, quello che è il suo valore, insomma. Non vendo nulla, ovviamente. Facciamo i test, i secondi test del weekend, voglio dedicarmi totalmente, facciamo i test di nuovo, li facciamo fare. E facciamo totalmente 36 giri, 36 giri di Engine Research e Engine Research. Così, giusto per farmi un'idea di quanto otteniamo. C'è della Brasilia Sebastian Wolf che si mette tra le nostre due auto, però, vabbè, abbiamo fatto un bel po' di punti. Engine Point e 11 punti, bene. Ovviamente poi tra di voi sicuramente ci sarà qualcuno che sa giocare. Io non so giocare, ma quello che voglio fare è andare semplicemente a farvi vedere anche la modalità grafica in modo da poter farvi vedere un po' tutte le funzioni. Abbiamo 33 giri, adesso da spendere. Facciamo una Race Simulation, così ci prepariamo. Non è andata proprio benissimo. Andiamo avanti e andremo alla prima gara in Brasile e poi correremo subito in Austria. Abbiamo una mail. Test completati. E vediamo il distacco tra la nostra scuderia e le altre. Va bene, andiamo in gara. Questa è la gara. Facciamo il setup. Non pioverà, c'è forse il 18% che piova in gara, ma va bene. Instant Practice. Facciamo 13 giri di Work on Car Setup. 13 giri di Work on Car Setup. Bene, simula la pratica. Va bene. Car Setup. Simulate Qualify. Non c'è modo di andare, però partiamo per i miei secondi. Va bene. Ora, io non tocco nulla, però vedete che ci sono le soste i box, quindi abbiamo la possibilità di andare a decidere il giro in cui ci fermeremo e anche che gomma montare. Piove, invece. Piove. E quanto carburante imbarcare. Perché negli anni 90 si imbarcava, fino a metà, anni 2000, si imbarcava al carburante. Quindi, piove. Comunque, il gioco ha anche una telecamera che legge i nomi. Probabilmente poi non li leggerà più quando i nomi non saranno più riconosciuti. Comunque, questa è la simulazione grafica. Possiamo scegliere il pilota da guardare. La cosa che ho notato è che, poi ovviamente parliamo di un indie, un prodotto di basso profilo, però la cosa che ho notato è che è un po' come il primo Formula 1 manager che i punti, diciamo, l'inquadratore sono sempre quelli e i punti di sorpasso sono bene o male sempre quelli. Cosa che hanno un po' migliorato nel nuovo manager 2023. Comunque, insomma, c'è il nostro Don Collins lì, come si chiama, che sta andando via. Stoppo un secondo e vi faccio vedere che qua possiamo impostare a Don Fight, Attack Him, Avoid Curbs, Evita i cordoli, Attacca i cordoli, il motore in Easy Mode per raffreddarlo oppure in Push Mode. Ok, io gli metto Push Mode al nostro Collins e qua c'è non difendere la posizione e sorpassa tutti i costi. No, gli dico di semplicemente così, così faccio andare via il mio primo pilota. Possiamo accelerare la simulazione e i piloti faranno errori, però bene o male li fanno sempre nello stesso punto. Diciamo che non c'è dinamicità, ma non finisce qui perché possiamo anche mettere in questa modalità qui che magari ad alcuni potrebbe piacere di più, lasciare magari più spazio alla fantasia. Ci sono i guasti, non ci sono gli incidenti a livello grafico, ma ci sono tanti incidenti. Cliccando qua vedete la gente che esce, perché anni 90 comunque i guasti tecnici erano tanti. Idraulica piuttosto che il cambio difettoso e così via. Intanto ci sta leggendo un po' tutte le cose. E qua abbiamo lo stato della gomma, il riscaldamento. Intanto sta andando via. Il nostro amico lì ha fatto bene da tappo. E poi possiamo andare a vedere quando abbiamo pianificato il pit stop. Ora accelererò il tempo al massimo. In modo che possiamo andare a vederla. Ci può rendere l'idea questa. Il nostro pole qui, Paolo ha perso due posizioni, quindi io adesso gli dico di attaccare. Tu non attaccare più, vai via, tu attacca tutto, attacca i cordoni e vai in push mode. Così recuperiamo le nostre posizioni e punto lui come telecronica, quindi come visuale. Quindi possiamo andare a velocizzarla o meno. Comunque vediamo adesso se la recupererà. Graficamente è carino, devo dire. Ha sbagliato. E sta sbagliando un po'. Però vedete che alla fine sbagliano più o meno sempre negli stessi punti. Io vedevo sempre una sgommata tipo qui dove sbagliavano il bloccaggio e si vedeva proprio la fumata. E basta, insomma, quello è... Poi la gara è abbastanza... Se simulata così è abbastanza veloce, nel senso ci perderete tra tutto. Magari se simulate male, come sto facendo io, una decina di minuti. Se ve lo volete vedere invece così è un altro discorso. Abbiamo la possibilità di vedere i distacchi. E qua possiamo vedere i distacchi da uno all'altro, da quello di fronte o totali, generali rispetto al primo. E possiamo vedere i settori. Quindi è molto bello. Oh, è tornato secondo. È tornato secondo? No, è quarto. Sono i tempi questi. Best lap. Gli out, i pit. Quanti hanno fatto il pit? Che gomme hanno? Qua vediamo le temperature. Quanto è bagnata la pista. Siamo in heavy rain. E qua abbiamo i settori dei nostri piloti. Di tutti i piloti, in realtà. Vedete che stanno migliorando, andando avanti. Stanno migliorando. Ed è molto più analitico a livello di numeri, analisi dei settori, di quanto non lo sia qualche altro gioco, insomma. Qua, vedete, possiamo shiftare anche qui. Quindi non c'è il DRS, non c'è nulla di tutto questo. Si correva così. Il gioco sembra fatto veramente bene. Qua sotto vedete che adesso il mio Collins sta facendo il primo settore record, che è Fucsia. E adesso acceleriamo, vediamo un secondo come lo fa. Il Fucsia è anche il secondo, farà il migliore giro probabilmente adesso. Sì, anche se l'ultimo settore non è stato un granché. Però ha guadagnato gli 80 millesimi. L'altro invece continua a perdere. Ora, quando hanno il box, lui si ferma nel giro 40. E lui si ferma nel giro. Oddio, si fermano nello stesso giro tutti e due. Questa è spiacevole. Fai che tu ti fermi al 42 là. Anzi, ti faccio fermare prima. 39 e tu al 41. Limitiamo un po' i danni. Ha sbagliato ancora. Sento dalla voce che è... Ribero è uscito. Vedete, non ci sono grafiche di... Questo è un po' peccato, ma... Ovviamente parliamo di una produzione piccola. È uscito per... Da guasto idraulico. Eh no, gli sto facendo fare degli sbagli perché lo sto facendo aggredire troppo. Intanto vediamo quanto ha da quello dietro. Un secondo è 8. Dovremo stare abbastanza tranquilli, anche se è un peccato. Non mandarli sul podio tutti e due. E niente. Adesso volevo giusto... CAS. Vedete che qua abbiamo lo stato dei vari componenti delle auto. Che comunque non essendoci budget cap, insomma, è una cosa un po' diversa qui. Abbiamo la grafica. Abbiamo... Non so perché lo sto facendo andare e la UI in questa risoluzione insulsa. Vediamo se riesco a spostare... Eh no, non me la mette. Me la lascia così. Che è un po' più carina, dai. Ok. Sounds volume. Il commentatore. Lo riabbasso un po'. Stiamo andando bene, anche se... Sì, l'abbiamo dato 12 secondi a tutti. Ormai lui gareggia da solo. E stiamo forse andando a doppiare qualcuno? No. Eh Dio. Ecco, una cosa che ho notato, che poi adesso io lo guardavo lo Formula 1 negli anni 90, ma non me lo ricordo esattamente. Abbiamo dato tipo 4 giri agli ultimi nel Gran Premio che io ho simulato la prima volta che ho giocato, quindi non so se effettivamente è realistico. Comunque guardando qua, vedete che qui in alto dice fin qui c'è una gomma ideale, la gomma rossa, poi c'è l'intermedio e poi l'heavy rain. E qua sta proprio diluviando, quindi niente bandiere rosse, niente gare fermate per una macchina che accosta leggermente sulla curva. Qua si gareggiava e quel che succedeva, succedeva. Insomma c'era spettacolo, c'era sfida, ma c'erano anche tanti incidenti, anche abbastanza gravi. E niente, siamo a 20 giri, adesso il gioco sta andando avanti. Quindi vedremo la sosta al giro 39, ne manca ancora un bel po'. Quindi saltiamo direttamente quando arriva il pit stop. Beh diciamo che potremmo anche anticipare la sosta, vedo il mio secondo pilota in difficoltà. Siamo al giro 27, io metto in pausa. 27, io lo faccio fermare al 29, si può? No, lo facciamo fermare al 29, facciamo fare due soste, c'è un 41 giri, sono 80. E li facciamo, sì, facciamo mettere le... Ok, così dovrebbe fermarsi adesso al 29. Intanto seguiamo lui, almeno vediamo se poi si ferma. Ok, siamo al giro. No, sta continuando a sbagliare, c'è proprio nel pallone totale. Vediamo. Intanto si è ritirato anche qualcun altro, ho visto. Si sta già fermando qualcuno, vedo. Non vorrei che... Vabbè, non abbiamo modificato la cosa, ma... Dovrebbe fermarsi il box. Sì. Si fermerà adesso, probabilmente. Pit. Ok, l'entrata è qua. Arriva il nostro amico Paolo. Abbiamo 30 secondi dal primo. Eccolo che si ferma. Entrerà il box. Non ci sono meccanici, però insomma, vediamo il tempo. Gli stanno facendo anche la benzina, vedete che la stanno aggiungendo. Hanno messo nuove gomme e riparte. Dobbè ripartire. Cerchiamo un po'. Ok. È abbastanza indietro. Calcolando che... Non si è ancora fermato. Eh no, si sono fermati praticamente tutti, tranne pochi. Pochi, gli altri sono indietro. Questo è una metà classifica. Il secondo non si è fermato. Da calcolare che il secondo è a 31 secondi e non si è fermato ancora. Quindi... Si fermerà. E... E vediamo. Si sono fermati? No. Si stanno solo aggiornando i tempi. E vediamo. Allora, intanto adesso arriverà il tempo anche per lui di fare il pit. Lo farà al 39. Metterà 41... Eh, devo mettere 42. 42 giri, sì. Perché ci faremo al 39, 79, 81, sì. Facciamo 43 per sicurezza, per stare tranquilli. Ah, ho sbagliato anche lui. Ho sbagliato anche lui. Sbagli un po' troppo frequenti, eh. Però vabbè. Vediamo se sta ancora guadagnando, ma penso di sì. Accederiamo. E il nostro qua, Paolo, non sta rendendo proprio per niente. Faremo un cambio, magari, appena abbiamo abbastanza punti per cambiare il secondo pilota. Ovviamente, essendo tutti sconosciuti e non essendoci ancora il supporto alle mod, non possiamo avere i piloti reali. Ma può essere interessante qualora decidessimo di iniziare una partita con piloti e scuderie tutte casuali. E quindi, chiaramente, un pilota non è ispirato a un pilota reale, quindi ce li dobbiamo scoprire tutti noi. Ok, 39, ci siamo quasi. 38. Si fermerà e vedremo il vantaggio effettivo. Vediamo se anche il nostro... Eh, adesso sta doppiando. Vedete che sono tutti a un giro. Sta doppiando tutti. Vediamo adesso Collins che si ferma. Arriverà il momento adesso dei Pit, dopo questa. Si. Si fermerà i Pit. Rientra. Vediamo il distacco. È passato davanti. È passato davanti lui che non si è ancora fermato, immagino. Infatti, Freund, Freund, vedete come si chiama. E si fermerà, immagino, adesso al 41. E però ci aveva dato abbastanza... Ci aveva ripreso. Ha solo 4 secondi, ma tra l'altro li sta anche perdendo. Sta perdendo un decimo... Decimo, ho visto d'occhio, che si è fermato. Posso inquadrarlo, vediamo. Rientra. Potrebbe rientrare a 25 secondi. Quindi, tecnicamente, se arriviamo fino alla fine con questo pit stop, sperando di sì, dovremmo cavarcela. Niente, io direi che a questo punto... La simulazione ovviamente sarebbe noiosa per chi non lo sta giocando, insomma, da vedere. A meno che non mi mettessi a fare la telecronica. Quindi ci ritroviamo direttamente alla fine della gara e vediamo com'è andata. Tanto dovrebbe farcela così. Ecco, è andata nel peggiore dei modi. Al giro 51-52, il nostro carissimo Collins ha avuto un danno ed è uscito. Al 50, scusate, si sono rotte le sospensioni. Gara totalmente dominata. Aveva 35 secondi di vantaggio. Però la cosa che notate è che cambio, cambio, idraulica, sospensioni, non ci sono incidenti. E questa è un'altra cosa che mi tocca dire perché magari se siete giocatori a cui piacciono, insomma, contatti di gara, quelle cose lì, qua non ci sono. Comunque, peccato. Però il nostro amico qui sta tornando in testa. Quindi probabilmente non ce la farà perché è a metà delle gomme. Quindi con questo vantaggio qui io devo farlo tirare un po'. E poi lo devo fermare, assolutamente. Perché non c'è il rischio di... È in testa, è vero, però lo stanno già riprendendo e ha delle gomme che comunque stanno andando. Quindi dobbiamo fare un pit stop dove magari è un giro 60. Giro 60, gli mettiamo... Eh, bisogna vedere quanta benzina ha però, effettivamente. Ne ha 21. Giro 50. Mettiamo 5 litri. Adesso se è giusta la teoria, dovrebbero aggiungere di 5 litri andiamo a 25 85 si dovrebbe farcela non gli mettiamo ovviamente la gomma da questa qui credo che si debba fermare adesso si fermerà adesso in testa forse riesce a mantenere la seconda posizione vediamo si ferma vediamo perde subito la prima esce subito dovrebbe farcela no però è quinto però con il compito di attaccare però vedete che qui ha un è in suo riscaldamento quindi no e finirà finirà molto male niente ci rivediamo fine gara purtroppo gara sfortunata per la bellucci paolo autore di una gara a due facce perché adesso sta assolutamente tallonando cercando di sorpassare il terzo e dovrebbe avercela fatta in questo momento gli ho fatto raffreddare il motore e gli ho letto attaccare i cordoli è riuscito e adesso sta attaccando addirittura il secondo quindi ha fatto proprio una gara in rimonta probabilmente me lo sono gestito male io però ha le gomme in suo riscaldamento quindi potrebbe avere un calo di efficienza è strano che si scaldino così tanto dato che sta piovendo di rotto ma attenzione ci prova non si riesce a seguire bene a questa velocità ovviamente ma vediamo che lo sta puntando e magari ha sbagliato ancora ha perso qualcosina tra l'altro prima la telecronica ha detto che ha fatto due errori nello stesso giro un pilota che ha sbagliato tutto ma in compenso è sul podio in questo momento mancano 6 giri alla fine adesso voglio passare con voi gli ultimi giri vediamo perché anche il terzo sta abbastanza tallonando anche il quarto scusate è lì attaccato no 8 decimi no lui adesso girano praticamente mezzo secondo no ma gli sta dietro vuole prendersi il secondo posto vuole prendersi il secondo posto ha sbagliato ancora il tempo sbaglia ma in realtà non perde niente l'ha solo passato adesso perfetto l'ho visto al volo ok sta andando via ha sbagliato ancora più che altro non è che sbaglia dice che non tiene la linea giusta comunque sta prendendo gli sta distaccando probabilmente la potenza di motore è veramente ottima 23 secondi dal primo non ce la facciamo andare a prenderlo probabilmente se mancassero 20 giri potremmo anche pensarci ma ne mancano solo due purtroppo e adesso dovremmo finire 22 si stiamo rimontando che sul primo tra l'altro anche se non ha un guasto vincere agilmente questa gara purtroppo poteva essere doppietta ma un guasto idraulico un grasso le sospensioni scusate ha portato al ritiro del nostro pilota di punta don collins quindi niente vedete che adesso abbiamo rimontato mi quattro secondi abbiamo preso ultimo giro e niente paolo arriva secondo salvo sbagli dell'ultimo minuto ma già dato quasi ci ha già dato cinque secondi a quelli dietro un'auto che va veramente forte perfetto pietro paolo che non è diniz però vedete vedete 112 è uscito adesso tra i giri cioè pietro paolo si prende il secondo posto della bellucci e bastian freund della mcfly e mclaren immagino quindi e niente vediamo il miglior giro l'abbiamo infatti noi siamo la squadra più veloce e niente questo è open wheel manager 2 fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente non è un tutorial ve l'ho mostrato spero vi sia piaciuto spero che possiate dirmi qualcosa insomma sotto nei commenti riguardo a cosa ne pensate un weekend di pausa e poi ci sarà la in austria per poi passare a quella in cina alla prossima e ciao ciao